Finisce a reti bianche fra Catania e Picerno allo stadio Massimino. Le due squadre continuano la loro corsa imbattute in campionato e salgono entrambe a quota 8 punti in classifica. 3-4-2-1 per Mimmo Toscano che schiera Luperini e Lunetta alle spalle dell'unica punta inglese. Solito 4-2-3-1 per Mr. Francesco Tomei, competito, riferimento offensivo e il tridente formato da Energe, Maiorino ed Esposito alle sue spalle. Sono i rossazzurri di casa ad avere la prima occasione al minuto 22 sugli sviluppi di un corner. Luperini colpisce di testa la sua conclusione e termina di pochissimo fuori. Risponde il Picerno 5 minuti più tardi colpendo un palo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Franco e Lesto a raccogliere un pallone al limite dell'aria ma il suo tiro termina la corsa sul legno. Ancora Catania pericoloso poco prima della fine del primo tempo, su un cross di Anastasio, Guglielmotti trova l'inserimento ma summa gli dice di no. Nel secondo tempo è ancora l'estremo difensore del Picerno a rendersi protagonista, vinsi in arca così per parare un colpo di testa ad inglese e deviarla fuori. I due tecnici inseriscono l'artilleria pesante da Andrea e Carpani per il Catania, Volpicelli e Pitarresi per il Picerno. Finisce però senza golle con le due squadre che continuano il loro cammino nelle parti alte della classifica.